il rapporto con il mattino nasce ormai vent'anni fa del priore così come il mattino è un'azienda nata dalla famiglia affonda le radici nella tradizione delle piccole aziende familiari e si è sviluppata insieme al mattino affrontando tutte le sfide tecnologiche e non solo che gli anni hanno proposto alle aziende del territorio il mattino per noi è uno di quegli asset fondamentali per la comunicazione aziendale sia lato digital che lato stampa la stampa nonostante il periodo di crisi che ha conosciuto continua ad essere un vettore importante di pubblicità di comunicazione per la del priore il digitale supporta e a volte traina tutte le nostre iniziative di comunicazione verso i nostri verso le nostre audience sicuramente il peso del mattino va ben oltre i confini territoriali abbracciando non solo il nazionale ma tutti i paesi tutti i paesi nei quali l'italiano è emigrato e non è solo radicato nel territorio ma è uno strumento di informazione fondamentale per tutti coloro che vogliono tenersi aggiornati in modo coerente costante sincero su tutto ciò che accade nel paese italia le sfide del progresso tecnologico hanno rappresentato per il mattino e per del priore un'opportunità un'opportunità importante di ammodernare la struttura aziendale inserendo nuovi processi certificando skills e qualità dell'azienda e permettendo di offrire all'interno del proprio paniere di servizi sempre nuovi spunti per migliorare la relazione col cliente abbiamo ottimizzato i processi abbiamo ottimizzato infrastruttura tecnologica e operativa abbiamo iniziato ad utilizzare i canali di comunicazione moderni tra virgolette anche se una parte di essi rappresentano una costante già da diversi anni e questo ci ha permesso di avere il beneficio tipico del digitale quindi un linguaggio più giovane un linguaggio diverso un nuovo pubblico al quale parlare e portare i nostri valori fondanti verso un verso un'audience ben più ampia di quella locale l'azienda del priore srl ci tiene particolarmente al rapporto con mattino e augura un successo strepitoso come quelli degli ultimi anni a tutta la redazione con l'avvento del nuovo sito siamo sicuri che la strategia la nuova strategia di comunicazione sarà ancora più efficace e permetterà agli utenti di informarsi in modo ancora più preciso e puntuale su tutte le vicende che riguardano il territorio nazionale e non solo un augurio sincero